Ciao a tutti Lemui e benvenuti in questo nuovo video Reaction. Oggi sono ancora per fare la reaccensione alla nuova serie animata di Dragon Ball Dragon Ball Daimon. Partiamo subito e vediamo di chi non so spiato. Non più Dragon Ball GT, Dragon Ball Daimon. Questa serie è uscita nel 2024, eh? Wow, incredibile, stiamo rivivendo tutto quello che è passato Goku. Wow, il Super Saiyan di quarto livello. Mi piacere anche. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Wow. 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 Wow.